Veniamo adesso alla pagina sportiva molto ampia questa mattina, cominciamo con i mondiali di nuoto a QQH in Giappone perché sono arrivate altre belle notizie per la nostra spedizione. Come lo vedete Matteo Santoro e Chiara Bellacani hanno ottenuto la medaglia di bronzo nella finale delle tre metri sincro misto. Ancora una volta è stata una bella rimonta del nostro team azzurro che era partito in quinta posizione poi migliorando anche il ponteggio di un anno fa in Ungheria. Loro è andato alla Cina e l'argento invece agli australiani. Per quanto concerne invece il torneo di pallannuoto femminile naturalmente c'erano tante attese per la nazionale delle sette rosa guidata da Carlo Silivo. La novità e la notizia più bella ci è arrivata perché le ragazze azzure hanno battuto la Nuova Zelanda con il punteggio di 14-17 a termine di una gara ampiamente dominata e che ha fatto evidentemente dimenticare l'amarezza della finale per anzi della gara. Persa contro la Grecia con il punteggio di 16-12. Adesso il 24 luglio affronteranno nel quarto di finale alle nove del mattino italiane la formazione tricampione olimpica degli Stati Uniti.